Ciao Vanessa! Ciao Vanessa! Ciao! Maniglia! Un saluto, grande! Ah, video? Ciao! Sì, grazie! Maniglia! Raffaella! È possibile? Un video! Ciao, un saluto! Grande Raffaella figlio con me la... Raffaella! Devo fare una foto! Dai, ok, andiamo a fare una foto! E' anche con la mia amica! Vieni, mi carai a me! Grazie! Buona veneta, la tua parte! Buon appetito! Buon appetito!